Grazie a tutti, spero che siano divertiti e ho imparato magari delle cose interessanti che ci ha raccontato Frappa, forse sono delle novità perché così siamo tutti quanti diciamo più informati su quello che Frappa, sui servizi che Frappa diciamo per interesposizione è stato un modo un po' più divertente insomma di raccontare i temi giuridici che spesso possono essere risultati un po' diciamo noi o i riferimenti insomma speriamo che abbia passato una bella mattinata. Grazie.